Come è iniziato tutto? Dalle ricostruzioni che abbiamo a finora raccolto, tutto è iniziato qui, questa biglietteria della metodologica nazionale Panamina, nella quale due persone, i giovani italiani, la partina romana, iniziano a litigare probabilmente per un male questione relativa a chi avesse la precedenza. Successivamente i due, sempre litigando tra di loro, si sono allontanati in direzione proprio dell'accesso alle banchine dei treni e in questo percorso è anche una questione dedicata a questa questione diretta. Dove esattamente è stata colpita la città romana? La città romana è stata colpita proprio al centro di questo tunnel che porta proprio all'ingresso della metodologica nazionale e è un luogo molto ben osservato dalle telecamere a cerchio di ruolo che sono presenti all'interno della città romana e che hanno dato poi un apporto determinante anche al materiale di costruzione. L'uomo è stata colpita nell'immeditezza, vuol dire grazie all'apporto determinante dei cittadini che dopo un primo momento di sbandamento hanno capito la gravità dell'estruzione e quindi sono stati tutti per chiedere il percorso dei concorsi della città romana e per indicare ai militari il servizio di scuola che è stato sottolineato.